Eccoci, buonasera. Il telegiornale questa sera ha molto sulla guerra, come è chiaro. Ci sono state le telefonate di Draghi a Zelensky, del cancelliere austriaco a Putin, ma c'è anche molto altro e c'è anche qualcosa che ci riguarda, perché oltre alle iniziative del nostro Presidente del Consiglio, che come si sa sono tese soprattutto a trovare il modo di sbloccare quelle navi che contengono il grano da esportare verso i paesi più poveri, sono bloccate nei porti ucraini sul Mar Nero, porti che secondo le accuse di Mosca sono stati minati dagli ucraini e secondo gli ucraini sono stati minati da Mosca. Ma al di là appunto dell'iniziativa, dicevo, di Draghi c'è anche qualcos'altro. Salvini ha fatto filtrare, poi ha ammesso che è in corso un lavoro negoziale che lo potrebbe portare anche a Mosca nei prossimi giorni. Nel caso, ha precisato, ne riferirei al Presidente del Consiglio prima di partire. L'impressione è che in questa fase così difficile, in cui non ci sono spazi visibili di trattativa, si cerchino un po' tutte le strade, anche quelle che meno ci si aspetta. Quello che è certo è che sul territorio, sul terreno, le azioni militari continuano ma senza marcatissime differenze rispetto ai giorni scorsi. Ovvero, l'iman sarebbe stata presa dai russi, ma l'iman era praticamente considerata già quasi nelle mani dei russi. Ancora l'accerchiamento di Seviero Donetsk non è stato completato e questa lentezza fa configurare una sorta di guerra dei nervi che si vuole imbastire da Mosca. Mentre da Washington Biden, a quanto pare, promette degli armamenti più pesanti e più importanti, più capaci di colpire a favore della Ucraina. Questo e tanto altro, vedremo, sul versante della guerra. Per quello che, come abbiamo sentito, coinvolge anche il nostro Paese. Poi ci sono le magagne della politica interna, 16 giorni dal voto referendario e amministrativo. Poi c'è la prima uscita del nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Ezzuppi, riguarda le colpe della Chiesa sulla pedofilia, che toccano direttamente anche la Chiesa italiana. Ma vedremo anche le incredibili notizie che arrivano da quel paesino, da quella cittadina del Texas, in cui, come si sa, un diciottenne ha ucciso 19 bambini di una scuola elementare e due insegnanti. In realtà c'erano all'interno della scuola 19, sempre 19, ufficiali di polizia, figure comunque delle forze dell'ordine che potevano intervenire e aspettarono fuori dall'uscio, senza tentare di fare irruzione perché pensavano di poter in qualche modo parlamentare colui che poi si è rivelato lo stragista, il giovane stragista. E ci sono anche terribili tante chiamate che sono state fatte vanamente dai bambini che stavano all'interno della classe al 911, l'equivalente del 112 italiano. Questo e altro. 30 secondi, titoli. Sempre più difficili i tentativi di diplomazia telefonica di queste ore. Draghi, dopo il colloquio di ieri con Putin, oggi ha sentito Zelensky. Obiettivo comune è lo sblocco dei porti per consentire le esportazioni di grano dall'Ucraina verso i paesi più poveri e evitare una crisi alimentare mondiale. Proprio Putin, in un altro colloquio telefonico con il cancelliere austriaco, ha affermato che il blocco di ogni possibile trattativa è colpa di Kiev. E a sorpresa, Matteo Salvini pensa di andare a Mosca. È un'ipotesi confermata dallo stesso leader della Lega che vorrebbe cercare direttamente in Russia spiragli di negoziato. Sul fronte europeo, intanto contrari alle stazioni alla Russia, definite sbagliate e gravi, il primo ministro ungherese Orban e la leader della destra francese Marine Le Pen. Sono sbagliate e pericolose, dicono. Il Donbass continua a essere nella morsa di un'offensiva russa che procede, lenta ma inesorabile, si dice in questi casi. Resiste la città di Seviero Donetsk che è quasi del tutto accerchiata però. Il premier britannico Boris Johnson conferma i costanti progressi sul campo delle forze russe. Nel primo rapporto indipendente sulle stragi di civili in Ucraina l'accusa di genocidio. Le truppe di Mosca, si legge, commettono atrocità con l'obiettivo di cancellare il popolo ucraino. Dopo la concorrenza, ora Palazzo Chigi cerca lo sprint anche sulla giustizia. Draghi ha rinnovato l'appello ad accelerare l'approvazione della riforma cartabia. Al di là dei lavori in Parlamento, lo snodo politico più atteso ovviamente è il voto del 12 giugno, quando ci sarà da esprimersi sui cinque quesiti referendari che impattano proprio con diversi contenuti della riforma della giustizia. Fare piena luce sugli abusi da parte di ecclesiastici. E questo è il primo impegno del neopresidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi. Il 18 novembre sarà reso pubblico un report relativo al periodo 2000-2021. È una priorità della Chiesa fare piena luce su quanto accaduto. Così come una priorità il rispetto del dolore di chi ha subito questi abusi, ha detto Zuppi. Eccoci allora, buonasera. Vediamo come le notizie principali sulla guerra in Ucraina, giunta al 23esimo, scusate, al 93esimo giorno di combattimenti, le notizie principali arrivano dai tentativi frustrati ma persistenti di una sorta di diplomazia telefonica. Oggi il colloquio più importante è quello tra Putin e il cancelliere austriaco Nehammer, ma c'è anche quello che fa evidentemente da compimento rispetto all'azione iniziata ieri proprio dalla telefonata con Putin di Draghi con Zelensky. Nel totale naufragio di una soluzione negoziale al conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha a fallire anche quella diplomazia telefonica che in teoria dovrebbe porre le basi per la ripresa di un dialogo. È accaduto anche oggi pomeriggio, quando si sono sentiti Putin e il cancelliere austriaco Nehammer. Putin ha ripetuto nella sostanza quanto detto ieri al premier italiano Draghi, definendo infondati i tentativi di accusare Mosca per una crisi alimentare che in realtà, a suo avviso, è colpa delle sanzioni dell'Occidente, intimando a Kiev di sminare al più presto i porti per sbloccare così il passaggio delle navi e rinnovando le accuse all'Ucraina di aver sabotato il processo negoziale. In più, come fatto ieri con Draghi, Putin ha assicurato che la Russia intende rispettare gli obblighi contrattuali per la fornitura di gas a Vienna. Senza guerra non ci sarebbero le sanzioni, è stata la risposta di Nehammer, mentre qualche ora prima era stato il cancelliere tedesco Scholz ad affermare che la narrazione putiniana sulle responsabilità della crisi alimentare globale va confutata a tutti i costi. Crisi alimentare con la necessità di sbloccare per farvi fronte le esportazioni di grano, 22 milioni di tonnellate sarebbero ferme nei silos, secondo il presidente ucraino Zelensky, che è stata al centro anche di un'altra telefonata, quella tra lo stesso Zelensky e Draghi, telefonata nel corso della quale il presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno italiano a Kiev in coordinamento con il resto dell'Unione Europea, sulla quale Zelensky non smette di fare pressione perché approvi il sesto pacchetto di sanzioni anti-Russia con annesso embargo sul petrolio di Mosca, tema sul quale, in vista del vertice della prossima settimana, i 27 starebbero cercando di raggiungere un compromesso che escluda in qualche modo dallo stop l'Ungheria. Ma da Kiev, per bocca oggi del consigliere presidenziale Podoliak, continuano ad arrivare agli alleati occidentali richieste sempre più pressanti per l'invio di armi pesanti, che presto potrebbero arrivare dagli Stati Uniti, da dove Biden, in occasione della cerimonia di laurea dei cadetti dell'Accademia Navale di Annapolis, ha lanciato un nuovo durissimo atto d'accusa a Vladimir Putin, che ha detto non solo vuole conquistare l'Ucraina, ma cancellarne la cultura. L'Ucraina non è ansiosa di parlare con la Russia, ma deve affrontare la realtà e sarà necessario per porre fine alla guerra, aveva detto Zelensky in un messaggio ad un think tank indonesiano. Quel momento, però, appare ancora lontanissimo, come testimoniano anche le durissime parole del ministro degli esteri russo Lavrov, secondo il quale l'Occidente ha dichiarato guerra a tutto il mondo russo e la Nato è un'alleanza alla ricerca del dominio militare globale, un percorso pericoloso che fallirà. E in questo giro di rapporti diplomatici, di accuse diplomatiche, entra anche un piccolo grande filone italiano. Ancora una volta protagonista chi è stato sicuramente il più vicino a Putin negli anni scorsi, il leader della Lega, Salvini. I primi flash di agenzia sembravano un déjà vu. Matteo Salvini pronto ad andare in Russia al fine di far ripartire i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina. La partenza a breve, secondo fonti leghiste. La stessa notizia l'aveva pubblicata ai primi di maggio Repubblica, che aveva citato a conferma indiscrezioni su una richiesta di visti già in atto. Il giorno dopo era arrivata la smentita dello stesso Salvini. Se andrò in Russia, lo chiedo a voi, ha risposto oggi invece, Sibillino. Ma poi non troppo. Ci sto lavorando, ha ammesso, aggiungendo il plauso per la telefonata di Draghi a Putin ieri. Bene i contatti diretti fra Draghi e Putin, giusto tenere canali diplomatici. Se serve un piccolo gesto, sono disponibile, ha detto. Salvini, insomma, sembra non resistere al richiamo di un ritorno a Mosca, decise evidentemente a segnalare al presidente russo disponibilità e anzi attivismo da mediatore. Un mese fa aveva lasciato trapelare la notizia della sua ipotetica trasferta, proprio mentre metteva in discussione il terzo decreto per l'invio delle armi in Ucraina. Primo distinguo rispetto alle scelte del governo per la verità votate quasi all'unanimità dal Parlamento, Lega compresa. Si era parlato di sintonia con Conte che aveva sollevato analoghi dubbi, poi rientrati dopo la visita di Draghi a Washington e di irritazione del Premier. Oggi il contesto è leggermente mutato, Salvini ha abbassato i toni della polemica sulla guerra in Ucraina, non ha più chiesto nuove votazioni sulle armi, ma ha scelto il giorno dopo l'iniziativa di Draghi, il colloquio con Putin, finito senza prospettive per ammissione dello stesso Premier, per far rimbalzare di nuovo in rete le sue aspirazioni diplomatiche. Già mi sento i ritornelli della sinistra, se certe cose le fa Salvini, ha attaccato preventivamente. Forse nella scelta lo avrà incoraggiato la fotoricordo della leader della destra francese Marine Le Pen con il Premier ungherese Orban, oggi a Budapest, dopo un colloquio nel quale hanno deplorato all'unisono le sanzioni contro la Russia. E forse la distanza temporale, sono passati due mesi, avrà fatto sbiadire le immagini della sfortunata visita in Polonia, nella cittadina al confine con l'Ucraina, quando il sindaco, pure appartenente al partito conservatore vicino alla Lega, aveva mostrato la sua ostilità per le pergrasse simpatie putiniane del leader della Lega con tanto di maglietta. Non ne so niente, ma Salvini avrebbe dovuto concordare con Draghi la sua iniziativa, aveva detto il ministro Giorgetti, interpellato a suo tempo in conferenza stampa. Oggi da Palazzo Chigi filtra che nessun segnale di questa intenzione è mai arrivato dal leader leghista al Premier o al suo staff. Dallo staff di Salvini che se la missione diventerà più concreta, Salvini gliene parlerà. Andiamo a vedere però come dal campo provenga la notizia che ha il maggior peso accusato nei confronti di chi ha invaso l'Ucraina, ovvero la Russia. Il rapporto indipendente che parla di genocidio per quello che è successo nelle zone di Buccia, Morogianca, Irpin. E' il primo rapporto indipendente sulle accuse a carico della Russia e la conclusione che Mosca sta incitando al genocidio e commettendo atrocità con l'obiettivo di distruggere il popolo ucraino. Il rapporto è stato redatto dal New Lines Institute for Strategy and Policy, un think tank con sede negli Stati Uniti e dal Raoul Wallenberg Center for Human Rights che ha sede in Canada. 50 pagine in cui si portano le prove a carico dello Stato russo che avrebbe violato diversi articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sui genocidi. Ci sono esempi di ben documentate uccisioni di massa di civili, deportazioni forzate, retorica anti-Ucraina disumanizzante usata da alti funzionari russi. Esecuzioni sommarie a Buccia, Sumi, Cernyhev, attacchi deliberati a rifugi, bombardamenti indiscriminati in aree residenziali, stupri, furti di grano, deportazioni forzate. Abbiamo capito che questa guerra è genocida per sua natura, spiega uno degli autori del rapporto che ha visitato l'Ucraina a marzo per raccogliere prove. Non abbiamo più tempo, il rischio è serio. Tutti i paesi che hanno firmato la Convenzione, che sono 151, compresa la Federazione Russa, devono fare il possibile per fermare questa guerra. Vengono fatti confronti diretti con il massacro di Srebrenica nel 1995, che ha visto l'efferato omicidio di 7000 musulmani bosniaci. Le forze serbe attuarono quello che solo dopo si scoprì essere un atto di genocidio. Era ormai troppo tardi, continua uno degli studiosi del rapporto. Nel 2022 invece abbiamo gli strumenti per segnalare e fermare queste atrocità. Vengono citati testimoni che raccontano di soldati russi che andavano porta a porta. Stiamo cercando nazisti, dicevano. In un'occasione venne fatta radunare una folla di gente per assistere all'esecuzione di cinque uomini in ginocchio con il capo coperto. Dopo che il primo uomo fu ucciso con un colpo alla nuca, il comandante disse alla folla questo è sporco, siamo qui per purificarvi dallo sporco. E ancora, un testimone nella città di Hostomel ricorre ad aver sentito un ufficiale russo dire a una bambina di otto anni vi libereremo dai nazisti. Il rapporto al quale hanno partecipato studiosi di diritto, esperti di genocidio, ma anche investigatori e linguisti punta apertamente il dito contro Mosca, accusa gli ufficiali russi di preparare il terreno per genocidi futuri, negando continuamente l'esistenza di un'identità ucraina. L'intento dello Stato russo continua il rapporto e quello di distruggere nella sua totalità o in parte un gruppo razziale e religioso etnico. E come altro esempio del fatto che la Russia sta violando la convenzione, gli esperti hanno portato anche le numerose dichiarazioni del Presidente Putin, in cui sostiene che l'Ucraina non ha diritto di esistere come Stato indipendente. Ma sul campo cosa sta succedendo? Che avanzano ancora i russi nella zona di Luhansk, quella più vicina a Severodonetsk, che però non è ancora cinta d'assedio. La guerra del grano, la guerra dei porti chiusi, la guerra che uccide. A Severodonetsk ogni sei case, una è distrutta, un edificio ogni nove è danneggiato. Ci abitavano 100.000 persone prima del 24 febbraio, ora in città, intrappolate. Come a Mariupol ce ne sono non più di 13.000. I russi controllano il 95% del territorio cittadino. La guerra intorno si sviluppa tra villaggi e piccoli centri abitati, una guerra di territorio che i russi oggi conquistano, ma che spesso e volentieri domani torneranno in mano agli ucraini. Anche il Pentagono e il Foreign Office ammettono che negli ultimi giorni l'avanzata russa verso Donbass ha ripreso velocità con truppe e artiglierie che continuano a stringere una specie di morsa intorno al collo di chi, filo ucraino, abita nella zona nord-orientale della regione contesa. La guerra negli ultimi giorni è tornata in zone che spesso sono uscite dalle cronache in 93 giorni di conflitto. Come Dnipro, città industriale di grande importanza, qui oggi sono morti una decina di civili, altri 30. Sono rimasti feriti dopo un raid missilistico russo con razzi Iskander contro un'installazione militare della Guardia Nazionale Ucraina. Russi padroni sul campo anche a Liman, sempre sulla direttrice che da nord porta al Donbass e in Luhansk in particolare. Le milizie filorusse e ceceni compresi affermano da ore di aver preso il controllo totale anche di questo insediamento. La caduta di Liman, che attende una conferma definitiva credibile, significherebbe comunque luce verde per l'esercito di Vladimir Putin verso altre città del Donbass come Sloviansk e Kramatorsk. Sono centri amministrativi di sicura importanza, un crocevia strategico ancora sotto controllo delle forze d'elite dell'esercito di Kiev. Se queste due città dovessero cadere anche loro, l'accerchiamento, a cui i russi lavorano da giorni con un ingente spiegamento di forze, una volta ultimati d'attacchi a Severodonetsk e Lissichansk, praticamente significherebbero la conquista russa dell'intero territorio di Luhansk. Solo nelle ultime 24 ore i russi hanno colpito 94 obiettivi civili, tra cui 13 centri abitativi e 76 case, una scuola alla stazione dei pompieri e 13 fabbriche. C'è poi un'altra parte della situazione creata dalla guerra, quella energetica. Le novità che starebbero per arrivare riguardano la decisione sul sesto pacchetto di sanzioni europee nei confronti della Russia. Si sa che quel sesto pacchetto è stato a lungo bloccato dal no dell'Ungheria a sanzioni sulle importazioni energetiche. A quanto pare c'è un'intesa che si sta perfezionando e che sarà raggiunta appunto ufficialmente lunedì e martedì nel Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo, che blocca in realtà le petroliere russe, ma non il petrolio che passa attraverso gli oleodotti. Nonostante la volontà del governo Draghi di sganciarsi dalla dipendenza economica di Mosca, l'Italia resta ancora legata mani e piedi al gas e al petrolio russo. Sono i dati dell'Istat a confermarlo, quelli su import ed export, soprattutto sui flussi commerciali con i paesi extraeuropei, in particolare quelli che scompongono nel dettaglio le tipologie di beni importati. Non solo il valore degli acquisti di gas e petrolio russo è pressoché raddoppiato a causa dell'aumento dei prezzi, ma l'evidenza dice che nei mesi scorsi stiamo comprando dalla Russia molto più combustibile fossile rispetto agli anni passati. Il motivo ce lo spiega la piattaforma indipendente European Gas Hub, che oggi ha fatto notare come nei mesi di aprile e maggio si sia registrato uno stoccaggio record nei serbatoi europei di gas naturale, con oltre 11 miliardi di metri cubi di gas iniettato, più del doppio di quanto immagazzinato nello stesso periodo del 2021, quando erano stati pompati nei depositi di gas europei circa 5 miliardi di metri cubi di gas naturale. È chiaro che non sappiamo se la Russia ci interromperà le forniture, come è accaduto alla Finlandia, e quando lo farà in caso. Nel dubbio, meglio accaparrarsi subito tutto il gas che si può stoccare per prepararci al prossimo inverno, da qua le spese extra registrate, che nel caso dell'Italia, assieme alla Germania la più dipendente dal gas russo, significa un deficit energetico che ormai supera i 30 miliardi nei primi quattro mesi dell'anno, mentre nello stesso periodo il deficit commerciale raggiunge gli 8 miliardi, a fronte di un avanzo di 15 miliardi e mezzo dei primi quattro mesi dell'anno passato. Di fatto la spesa per acquisto di energia rappresenta ormai i due terzi dell'import dai paesi extraeuropei. Non ci rimane che diversificare gli approvvigionamenti, sperare in un esito a noi positivo della guerra in Ucraina e lavorare per un futuro prossimo decarbonizzato. Oggi al G7 Energia, in Germania, i paesi ricchi hanno deciso di cessare entro quest'anno i finanziamenti pubblici a centrali a gas e carbone all'estero, di eliminare tutti i sussidi inefficienti alle fonti fossili entro i prossimi tre anni e ottenere un settore elettrico prevalentemente decarbonizzato entro il 2035. Veniamo in Italia a vedere la situazione della giustizia, perché è qui che si disputa tra riforma e referendum una parte di questa partita politica. Gli italiani si aspettano dalla magistratura decisioni giuste e prevedibili in tempi brevi. Gli stessi magistrati hanno bisogno di una riforma che rafforzi la loro credibilità e terzietà. Questi sono i principi alla base della riforma del governo, che auspico possa essere completata con prontezza. Nel messaggio di Mario Draghi al convegno sulla giustizia dell'Università di Padova, ci è contenuto l'invito alle forze della sua maggioranza a superare uno dei tanti scogli che hanno reso difficile la navigazione del suo governo. La riforma firmata dal ministro della giustizia Cartabia ha superato non senza difficoltà il primo esame, quello della Camera, e aspetta ora il via libera definitivo del Senato. In mezzo ai cinque referendum sulla giustizia promossi da Lega e radicali, sui quali gli italiani sono chiamati a votare il 12 giugno. Con alcuni quesiti vedi la separazione delle funzioni dei magistrati che impattano con i contenuti della riforma a frutto di un difficile compromesso nella maggioranza, che sui quesiti è nettamente divisa. Da un lato le forze di centrodestra, Lega in primis e Forza Italia, schierati per il sì, sostenuto anche da Italia Viva, dall'altra 5 Stelle PD che bocciano il referendum invitando a votare 5 no. I leghisti si lamentano della scarsa informazione sui cinque quesiti e organizzano per i prossimi due weekend mille gazebo. Dall'altra parte della maggioranza puntano a chiudere la partita giustizia una volta passati i referendum. Il 14 giugno in Senato verrà calendarizzata la riforma sulla quale pesano circa 150 emendamenti della maggioranza tra Italia Viva e Lega. Per Draghi si tratta di un altro tassello da sistemare nel quadro complessivo del PNRR. L'intesa raggiunta ieri nella maggioranza sui balneari e sul fisco ha fatto tirare al premio un sospiro di sollievo. Sono molto più sereno dei giorni scorsi, ha detto, convinto che tutti gli obiettivi del PNRR e resilienza saranno raggiunti. Le parole di oggi sulla giustizia, l'auspicio di una riforma completata con prontezza vanno in questa direzione. Andiamo a vedere come il neo prescelto presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi abbia subito preso di petto quella che è la questione più scottante, come si sa per i sacerdoti italiani. La questione ovviamente è quella della pedofilia, ne ha parlato in questi termini. Sulla pedofilia la Chiesa annuncia che non ci sarà nessuna copertura, nessun silenzio, rimozione, ma solo chiarezza vera e giusta. Il cardinale Matteo Zuppi da tre giorni alla guida dei vescovi italiani alla sua prima uscita pubblica sceglie questo tema, una delle piaghe più profonde della Chiesa Cattolica. Parla degli abusi sui minori e lo fa con lo sguardo basso, quasi chiede se scusa a chi ha sofferto e soffre ancora, come ha già fatto Papa Francesco. Cosa seria, vera, insisto, dovuta alle vittime, dovuta anche a stanta madre Chiesa che ovviamente disonoriamo e che quindi lo dobbiamo tutti e due, dobbiamo in primis stare alle vittime e quindi anche la Chiesa, sono molto unite perché la Chiesa sta dalle parti delle vittime anche quando purtroppo dolorosamente sono provocate da fratelli o figli della stessa Chiesa. Un solenne atto di pubblica ammenda. Vogliamo prenderci le botte che meritiamo, spiega il Cardinale di Bologna, un prete che viene dalla strada, che è partito dalla scuola e bambini delle baraccopoli romane. Ci sarà un report della Chiesa, annuncia zuppi sui casi di abuso e sulle attività di prevenzione. Fornirà dati dal 2000 fino al 2021. Sarà pronto e pubblico entro il 18 novembre perché il pensiero è sempre per le vittime e il loro dolore è la prima preoccupazione. Le parole del Pontefice sono chiare. Ad analizzare i dati della Congregazione per la dottrina della fede saranno due istituti universitari indipendenti. Verranno potenziati i centri di ascolto. Lo stesso Bergoglio aveva detto di volere alla guida della Chiesa un cardinale pronto a fare un bel cambiamento e questo è il primo segno. Un passo importante riconoscono le vittime di pedofilia presenti all'incontro con la stampa che però non si sentono pienamente soddisfatte. Il periodo di tempo del report annunciato dalla Chiesa è il loro giudizio troppo limitato. Si parte dal 2000. Troppi casi del passato sostengono rimarranno fuori insieme ad un sistema che si difendeva con il silenzio e il trasferimento dei sacerdoti abusatori. La rete e l'abuso che riunisce in Italia le vittime degli abusi sessuali del clero conta 164 sacerdoti indagati, 162 condanni in via definitiva, circa 30 vescovi presunti insabbiatori, 161 nuove segnalazioni da inizio anno, 471 casi impuniti per cui il reato è andato in prescrizione. In Italia, dice il presidente dell'associazione, Francesco Zanardi, ci potrebbero essere un milione di vittime potenziali. Andiamo a vedere invece in Texas dove dopo l'orrore, dopo lo sbalordimento generale per quella terrificante, ennesima carneficina, questa volta all'interno di una scuola elementare con 19 bambini uccisi insieme a due insegnanti, monta la collera per la constatazione che la strage poteva essere limitata o addirittura evitata. Emergono i particolari che stiamo per sentire. Almeno 100 i proiettili sparati dal killer nell'ora e mezza in cui si è barricato nella scuola elementare di Uvalde in Texas. Ha spiegato questo pomeriggio in una conferenza stampa davanti alla scuola Stephen McCrow, capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza texano. Un tempo lunghissimo in cui però nessuno è intervenuto per bloccare il diciottenne Salvador Ramos mentre freddava 19 bambini e due adulti di cui un insegnante. Le autorità texane oggi hanno ammesso le proprie responsabilità anche nel consentire l'intervento delle squadre speciali arrivate secondo una ricostruzione del New York Times un'ora prima di quanto poi sono riuscite effettivamente ad entrare e uccidere il killer. Sono stati gli agenti della polizia locale a bloccarli, non li hanno fatti entrare perché non credevano che ci fosse una persona che sparava, non pensavano che i bambini fossero a rischio, una decisione sbagliata, ha detto McCrow. Se servisse a salvare vite chiederai scusa. In quella prima ora Ramos è riuscito ad uccidere la metà dei bambini. Il killer è arrivato con il suo camioncino finito in un fosso e proprio il rumore dell'incidente ha attirato un insegnante e due impiegati di un'agenzia funebre lì vicino che sono usciti. Ha sparato contro di loro senza colpirli. L'insegnante è poi rientrata a scuola e ha chiamato il 911 lasciando la porta aperta da cui Ramos è entrato armato con un fucile da guerra e una mitraglietta e decine di caricatori con 20 proiettili ognuno. Numerose altre richieste d'aiuto sono arrivate al numero d'emergenza anche da parte di molti piccoli studenti. Una bambina ha chiesto per favore mandate la polizia adesso ed è stata messa in attesa. Un'altra persona che ha chiamato attorno alle 12.16 cioè 45 minuti prima che il killer fosse ucciso dalla polizia ha riferito che 8-9 bambini nell'aula erano ancora vivi. Mentre l'indagine sulla dinamica della strage continua a circa 400 chilometri da Uvalde a Houston si è aperta ieri la convention annuale della potente lobby americana delle armi. In serata ora italiana atteso l'ex presidente Donald Trump da sempre sostenitore del diritto di possederne una. Domenica intanto Joe Biden sarà a Uvalde per stare vicino alle famiglie delle vittime dell'ennesima carneficina in una scuola. Dopo di noi a otto e mezzo l'Illigruber ospita Lucio Caracciolo, Franco Cardini, Andrea Scanzi e Mario Lina Santanino. Poi venerdì è il tempo di propaganda live con Zoro ci sono Francesca Mannocchi, Stuart Copeland, Irene Grandi, Gabriele Galimberti, Andrea Pennacchi, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Costanza Eroicer, Memo Remigi e Paolo Celata. Ci fermiamo. Infine isolato a Milano nel laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco, il virus del vaiolo delle scimmie responsabile dell'epidemia che è attualmente presente in Europa. L'annuncio è da parte della vicepresidente Lombada Letizia Moratti. Questo rappresento l'importante risultato per la ricerca scientifica. Sarà possibile assaggiare l'attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l'infezione della quota di popolazione vaccinata contro il virus del vaiolo. Le borse. Milano ha chiuso, come vedete, in progresso frazionale, più 0,37%. In questo momento andiamo a Wall Street. Non so se Wall Street si è aperto, non voglio correre rischi. Ci vediamo domani alle 17 con l'ostro speciale e comunque alle 20. Buona serata. Grazie.